Scrivere è magia, ti è capitato di pensarlo? Sì, una volta sì Quando ho cominciato a scrivere Yes up, Fatma Kim, con il microfono Clementino Iena White Murder mentality, mix deep, direttamente a Nabra, Clementino Iena White Vedi i miei fratelli, l'Hipop, Silvio Prima metterai d'accordo quello che hai in testa Con quello che succede in questo mondo E prima tornerai a star bene Welcome to Murder mentality In questo mestiere devi sporcarti almeno un po' le mani Se vuoi che si fidino di te Ho scoperto che non stavo solo raccontando una storia Scrivere è un'arma Chi ma è che gli hai te vizzo sa? È un'arma più potente di qualsiasi pugno Ogni volta che mi sono messo a scrivere Mi sono levato sopra le mura di questa prigione E il mio sguardo andava oltre Dio È assurdo che sia così Eppure lo è amico mio Mi dispiace averti aperto gli occhi ma è così Sono alzer E quando tutto questo sarà passato Ti si aprirà davanti un mondo completamente diverso Ora ho accesso ai piani alti Imparare regole diventa più saggio E allora si le cambierai le cose Ma è dall'interno che le devi cambiare ragazzo Il mio negro King Kong non è un cazzo in confronto a me Non è un cazzo in confronto a me